Riguardano soprattutto i periodi di guida, riguardano soprattutto il fatto che non è una battaglia nei confronti della categoria. Ci sono tanti che taroccano il tachigrafo digitale. La manomissione del cronotachigrafo rappresenta una delle violazioni più frequenti anche nel territorio eretino, se parliamo di mezzi pesanti. Si tratta infatti di uno strumento, noto come scatola nera, obbligatorio, che memorizza alcune informazioni relative al viaggio effettuato dal camion, come velocità, distanza percorsa, eventuali anomalie e, soprattutto, quanto tempo è stato in moto il mezzo e quanto invece è rimasto fermo. I periodi di guida sono chiari in maniera specifica, però causa mille problematiche che ci sono in corso attualmente, la crisi economica, le situazioni e il traffico intenso, i conducenti tendono chiaramente anche a un non rispetto. A Varezzo così è stata organizzata una giornata di studio in materia di autotrasporto dal titolo Il tachigrafo e il controllo del conducente, circa 100 iscritti provenienti da tutto il centro Italia. Il corso è rivolto a tutte le forze dell'ordine, quindi all'interno della sala ci sono anche i colleghi della polizia stradale e dei carabinieri, quindi il corso è rivolto a un aggiornamento tecnico per poter operare su strada sul controllo del tachigrafo e dei conducenti dei veicoli pesanti. Su questo la polizia municipale di Arezzo è abbastanza attenta, infatti due formatori sono proprio del nucleo dell'autotrasporto di Arezzo. Sicurezza stradale, quanto sono importanti i controlli anche sui mezzi pesanti? Io ritengo che sono necessari perché il numero degli incidenti che vede coinvolte anche in questa categoria di veicoli è talmente elevato che è necessario fare un controllo sulle strade anche all'interno del territorio comunale in maniera attenta e scrupolosa.